Polemiche bollenti a Cagliari per le nuove regole di ordine pubblico. Vediamo il servizio di Antonello Lai. Da oggi il DASPO non sarà riservato solo ai tifosi, ma sarà riservato anche a tante persone che vivono a Cagliari. I beneficiari, per modo di dire, saranno i barboni, i mendicanti, coloro che abitano nei quartieri popolari e che hanno a che fare con i panistesi, i ciclisti e qualcun altro marziaci loro. Sì, c'è da dire che non si potrà più bere alcolici, per esempio, in 24 zone rosse che sono state individuate dall'amministrazione, per esempio. Ma peccato che sono state individuate arbitrariamente con un divieto dalle 22 alle 6 per tutte le zone. Ecco, ci sono delle zone molto sensibili, ma probabilmente in alcune zone bisognava vietarlo praticamente tutto il giorno, perché sappiamo bene che in zone... non sono le periferie, tra il centro storico e le periferie ci sono delle persone che usano gli alcolici per tutto il giorno. Poi per andare a dormire ci sono molte persone che usano posti come questo delle Ormos, poi però portano via i loro averi, pochi averi, alla mattina. Ecco, bisognava dare dei servizi prima di vietare che queste persone potessero stare, le persone che sono fissate di dimora, che tra l'altro da uno studio è stato veramente verificato che non sono un problema di sicurezza urbana e questo è stato detto in commissione. Grazie.